www.feyyaz.tv Bravo, andiamo Ma che bellezza, ma dai, ma che bello Wow, mamma mia, che bravi, eh? Bravi ragazzi Mi zira la testa, mamma mia Insomma Ma adesso io devo mettere tutti in fila Eh Ah, è vero? Dai, va bene È buona Perfetto Come si fa? Dove devo andare? È il primo fidanzo Dai Dai Oh, Ben Pietro, fai fare qualche punto, eh Mi raccomando Eh, beh No, insomma Mina, Ben No Beh Tocca a me Eh Grande Grande Eh 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 La Befana è anziana Senta piano Ved niente Ma qui la Befana è anziana Ah, che brava Eh 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 Beh, insomma Eh Grazie Grazie Oh, mamma mia Una cosa che qui ditte Eh Grazie Ciao Befana Torna a trovarti Si, si, si Oh, mamma mia Slepis Ma Grande Grazie